Molte figure classiche dell'horror come l'Xenomorph di Gege, Pyramid Head di Silent Hill e tante altre creature inquietanti condividono diverse caratteristiche, pelle biancastra, orbite vuote nere, volti prolungati, denti affilati e simili. In qualche modo queste figure creano in noi inquietudine e repulsione. Le caratteristiche condivise da questi esseri sono impresse nella mente umana. Molte cose spaventano istintivamente l'uomo. La paura è naturale e non ha bisogno di essere lavorata poi tanto per spaventare. Le paure sono molteplici, partendo da tempi remoti, dove un lampo poteva far pensare alla nostra amata casa sull'albero in fiamma. Un fulmine portava la mente un imminente tumulto. Predatori potevano cellarsi nell'oscurità e l'altezza ci ricordava che le travi su cui poggiavamo potevano cedere ed essere letali. La domanda a cui devi risponderti però è la seguente. Negli anni passati e bui, ancora prima che la storia cominciasse, qual è stato l'avvenimento che ha infortato l'umanità intera con la paura profonda e primordiale di esseri pallidi nascosti nell'oscurità, delle loro orbite vuote, dei loro denti affilati e dei loro morti prolungati. Stai attento lì fuori.